Hai ricevuto una diagnosi in fausta rispetto al tuo animale e forse ti trovi a chiederti se le scelte che stai prendendo rappresentano esattamente il bene per il tuo animale ma anche quello che veramente vuoi per te e per come ti immagini di concludere la vostra esperienza insieme. Io mi chiamo Carolina Venturini, sono coach, aiuto i familiari pet ad attraversare il fine vita e il lutto attraverso la capacità di scegliere come indirizzare i propri passi mentre si vivono queste esperienze e dopo quando l'animale non c'è più. Scegliere è una capacità importantissima per la persona perché dà l'indirizzo alla propria vita però quando ci troviamo nella fase del fine vita non siamo soltanto noi in gioco. C'è anche il benessere del nostro animale quindi il benessere delle cure, dell'esperienza delle cure nella fase terminale della sua vita e quindi scegliere significa imporre all'animale un'esperienza fisica di benessere o di malessere. Un'esperienza che va a collimare con le nostre aspettative, le nostre emozioni di persona. Ci possono essere delle decisioni prese per scelte legate all'incapacità di lasciare andare piuttosto che alla paura, alla fretta, al voler concludere, infletta un ciclo di esperienza che in questo momento viene sentita come troppo forte o troppo impegnativa. Ma ci può anche essere la capacità della persona di reggere il momento e quindi di aspettare la morte senza dover ulteriormente caricare l'animale di medicinali o trattamenti. Sono scelte private, sono scelte che la persona fa in sua coscienza sentendo il proprio amore, le proprie esigenze personali e mettendo anche in discussione il proprio valore umano sia come proprietario sia come persona a tutti gli affetti. Quindi accompagnare nel fine vita significa rendersi conto che il tempo sta terminando ma rendersi conto anche che l'animale che abbiamo accanto ha delle necessità e dei bisogni che possono andare anche in dissonanza rispetto a quelli che sono i nostri. Un animale potrebbe avere bisogno per esempio di calma, dei suoi ritmi, di trovare i suoi modi per salutarti, i suoi modi per dirti ancora una volta grazie, dirti ancora una volta che sei stato o sei stata importante per lui. Allora la cosa che ti consiglio di fare è cercare di sentire e di accorgerti quanto le tue emozioni in questo momento stanno compromettendo la qualità della vostra esperienza finale insieme. Questo è un momento importante perché è un momento in cui vi permettete di ringraziarvi, di onorare l'esperienza insieme e anche di dirvi quanto vi amate. Ed è importante proprio per questo perché non ci saranno altre occasioni fisiche per dirvi il vostro amore. Questa è l'ultima occasione fisica che avete vicino, che avete a disposizione ed è per questo che imparare a scegliere senza l'onda delle emozioni ma con il radicamento interiore è veramente importante. Io come coach ti posso aiutare in questo ma la cosa che ti consiglio soprattutto adesso dove magari sei mosso da tanti eventi che ti possono portare via perché magari non ci sono solo le tue esigenze ma anche quelle della tua famiglia, delle persone che ti stanno intorno e che magari non cogliendo la sensibilità del momento ti pressano per delle decisioni che semplificano il vostro momento. Ti consiglio di fermarti, di prenderti il tempo, di fare silenzio all'interno di te, di mettere per iscritto tutte le possibili decisioni e dopodiché lasciar parlare il corpo perché dentro al tuo corpo ci sono tutte le risposte, tutte le tue volontà. Certo non è facile quando la volontà dentro di te va in contrasto con le volontà delle altre persone che hai intorno però ricordati che si tratta di te e del tuo animale, di quel legame speciale che avevate insieme e che sei tenuto o tenuta a onorare anche e soprattutto adesso che siete agli ultimi pagine della vostra storia insieme. Io sono al tuo fianco e sono sicura che saprai scegliere al meglio. Un abbraccio